Ciao ragazzi, sono Andrini, vi faccio vedere l'applicazione, c'è un vento panto, è andato qua, quindi è anche normale che vi abbiano titolato il palazzetto, lo faccio rivedere ancora, e adesso poi entriamo e vediamo come vanno le cose in questa competizione. All'esterno come vedete c'è la scritta Palafacchetti, visto che questa è la serie del Blue Basket 1971, ci sono tutti i Minos disegnati sui panettoni stradali, quindi carino, ce ne sono una catervata insomma come potete vedere, anche Curry, vedete. Con i giocatori del Blue Basket, veramente, veramente tantissimi, beh, direi che abbiamo fatto un bel video anche qua e possiamo entrare. Ciao ragazzi, sono tornato a casa dal mio viaggio, insomma, non era molto lontano, ma comunque a Treviglio, niente, la gara è andata benissimo, l'ho vinta, sono campione regionale, va benissimo tutto, è un bel palazzetto, il nome chiaramente per uno giuventino da un po' di... però come struttura è molto bella e insomma, credo comunque che tre... non è la prima volta che gareggiavo lì, è un palazzetto che conoscevo assolutamente benissimo, mi ha fatto veramente piacere, spero che il video vi sia piaciuto e al prossimo video, ciao! Grazie! Grazie!